Una delle cose che mi fa più incazzare sono le persone che magari cambiano bandiera alla propria barca, no? Perché? Per risparmiare sulla zattera. Cioè, ma ragazzi siete fuori, no? Allora, con il mare non si scherza, no? E ovviamente io non cambio bandiera alla mia barca perché la bandiera belga o la bandiera francese mi consente di non avere la zattera in barca, no? Cioè, ma non esiste. Io prima di tutto guardo la mia sicurezza e a quella della mia famiglia. Quindi anche se praticamente, anche se non me lo imponesse la mia bandiera che è quella italiana, no? Ma non ne porto una ma ne porto due, non ho un pacco di razzi ma ne ho tre, no? Cioè ho sempre tutto, molto di più di quello che serve, no? Perché stiamo parlando di sicurezza, non stiamo parlando. Quindi non riesco, cioè mi fa incazzare da la bestia perché molte volte mi fanno fare delle pratiche per il cambio bandiera e quando capisco la motivazione mi casca la macella, mi casca la mandibola. Cioè, quindi veramente, cioè mi fa incazzare da morire perché la gente pur di non spendere 400 euro, no? Li mette praticamente comunque togliendo della sicurezza sia per sé che per la propria famiglia. Un delirio. Quindi veramente per me non esiste. Non cambiate bandiera. Cioè dopo questo video spero che qualcuno ci ripensi. Non cambiate bandiera per questo perché anzi vi consiglio di avere tutto doppio, no? E non ve lo devi, la sicurezza non ve la devi imporre, no? Una legge o uno stato, un governo. No, ve la dovete imporre voi da soli. Voi personalmente perché è un vostro, cioè lo dovete fare per forza, per forza, sia per voi che per la vostra famiglia. Ragazzi, attenti.